L'aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa sta diventando una vera e propria emergenza per gli automobilisti. L'aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa sta diventando una vera e propria emergenza per gli automobilisti. Con l'aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati e il Brent che torna a superare gli 80 dollari, il costo della benzina e del gasolio diventa sempre più insostenibile per le famiglie italiane. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy elaborati dalla Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy elaborati dalla Staffetta Quotidiana, le medie dei prezzi praticati dai gestori, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti, mostrano un aumento della benzina self-service a 1,850 le medie dei prezzi praticati dai gestori, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti, mostrano un aumento della benzina self-service a 1,850 le medie dei prezzi praticati dai gestori, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti. La benzina servita e costa invece 1,989 euro litro 4, compagnie 2,035, pompe bianche 1,897, e il gas. La benzina servita e costa invece 1,989 euro litro 4, compagnie 2,035, pompe bianche 1,8. I prezzi del GPL servito sono scesi a 0,706 euro litro meno 1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,600. I prezzi del GPL servito sono scesi a 0,706 euro litro meno 1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,600. I prezzi del GPL il GPL costa 1,250 euro KG2, compagnie 1,257 euro KG, pompe bianche 1,240. Il GPL sulle autostrade, invece, la benzina self-service costa 1,924 euro litro, servito 2,174, il gasolio self-service. sulle autostrade, invece, la benzina self-service costa 1,924 euro litro, servito 2,174, il gasolio self-service sulle autostrade, invece, la benzina self-service costa 1,924 euro litro. In molti casi, gli automobilisti sono costretti a ridurre l'uso dell'auto o a cercare alternative più economiche, come i mezzi pubblici o la bicicletta. Il problema dell'aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa è legato alle fluttuazioni del prezzo del petrolio sul mercato internazionale e alla politica dei governi in materia di tasse. Per far fronte a questa emergenza, le associazioni dei consumatori stanno chiedendo al governo di adottare misure per ridurre la pressione fiscale sui. Allo stesso tempo, gli automobilisti sono chiamati a fare la loro parte, adottando comportamenti più sostenibili, come la guida ecologica e l'uso di mezzi di trasporto.